ciao brava gente ed eccoci qua ritrovati su Teikoku Destron per la review finalmente del nostro Triverse Triedasher scusate ci ho messo un bel po di tempo ma ero veramente preso in questo periodo allora l'ho somanettato un attimino non devo dire la verità non ho avuto neanche il tempo di trasformarlo nei vari mecha però è veramente una figura stupenda veramente veramente ben fatto piccolino come taglia però veramente ben strutturato e adesso andiamoci a vedercelo un po per prima cosa la taglia come grandezza siamo ovviamente più grandi del manubre epsilon che ho recensito la scorsa volta e e questo per quanto riguarda la serie di acrone per quanto riguarda per esempio i transformer siamo bene o male sulla stessa linea scusate dei deluxe forse siamo un attimino più alti questo un attimino ma siamo come un deluxe e più piccolo dei Voyager sì per cui siamo un po sul livello di deluxe però come struttura come fatto come rifinito eccetera anche se per esempio questo megatron mi piace moltissimo però siamo su completamente un altra scala cioè è un è una figura ha fatto veramente molto molto bene andiamo a vederci per prima cosa le articolazioni allora e per cominciare prima vediamo che qui è presente è una cosa che è presente in gran parte di transformer ci abbiamo gli occhi trasparenti che prendono la luce da dietro ed è veramente ben ben fatto quando entra bene o male bene la luce si vedono veramente questi due occhi è molto con una presenza molto forte poi abbiamo la testa che si muove tutti i sensi senza nessun problema e le spalle che sono articolate benissimo ma non fateci casa queste due si possono anche togliere sono degli attachment point per metterci le spade eccetera allora torniamo le spalle sono articolate benissimo poi abbiamo gomiti articolati senza problemi per quanto riguarda le mani quattro dita si aprono poi ma è una cosa anche che ha a che fare con la trasformazione comunque si può il polso può essere un po' piegato queste queste mega ruote girano ovviamente si usano nella versione a movimento ad alta velocità terrestre ma messo così ricordano anche quel personaggio che è venuto fuori una o due volte penso in super robot tizen non so se voi ve lo ricordate quel robot e ghiadendo che aveva delle specie di ruote che si ruotavano qua e anche sui piedi ce l'è anche lui ok poi per quanto riguarda qua il vaccino anche qua si muove benissimo 380 gradi ma è solo un proprio bello tosto belle dure come giunture qua per quanto riguarda la parte la parte delle gambe eccetera abbiamo una sezione molto molto semplificata senza front scart né niente senza un attimino più ricercata sarebbe stato meglio ma da l'idea veramente di un mezzo e come si chiama di produzione di massa fatto per muoversi velocemente per cui senza fronzoli eccessivi ecco le gambe le cuoce si muove in avanti senza problemi sono molto 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 dure e anche qua i lati anche le ginocchia si muovono fino in questa maniera come vedete si può prendere tutte le pose possibili di sto mondo anche qua si muove anche le braccia si muovevano qua all'altezza della spalla ok poi le caviglie sono super super articolate il che permette di far prendere veramente pose davvero davvero devastanti ok abbiamo visto bene o male come sono strutturate le varie giunture del nostro trydusher adesso vediamo cosa c'era dentro la scatola la scatola invece questo è il solito blister e dentro il blister ci troviamo dentro due libretti il numero di telefono dell'attaccaratomi group se qualcuno li vuole chiamare questo è il libretto di istruzioni giusto vero tosto visto così viene un po' il mal di testa a vederlo però la trasformazione è abbastanza impegnativa ma non difficilissima penso non l'ho ancora fatto e poi questo è tutto il libretto di istruzioni che come vedete è abbastanza voluminoso per una figura alta come un deluxe class poi abbiamo questo che è un libretto con questa bella foto centrale che presenta ci da l'immagine in tutti i modi del nostro trydusher che sono il bullet core il trydusher versione e come si chiama battaglia finale quello versione mecha è un po' tipo il gaok di macros che ricorda un po' però il gun tank e poi la versione ad alta a movimento ad alta velocità e poi qua la varie le varie spiegazioni con le varie modalità eccetera 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 mac mode machine mode e tutte le varie armi che sono due il D-Max Cannon e il Crash Calibur 2 come spada chissà che fine ha fatto il Crash Calibur 1 vabbè ok adesso andiamo a vedere giustamente le armi eccetera che c'erano dentro la scatola per prima cosa e l'ho già spiegato la scorsa volta abbiamo due Dianauti stavolta questo è il Dianauti classico eccoci qua è completamente con tutta la divisa l'elmetto eccetera ed è il classico Dianauti uomo poi c'è anche un Dianauti a donna più magra che ho messo qua dentro il cockpit già al posto di comando come vedete un attimino più più magra più sottile si vede anche il petto eccetera e poi qua abbiamo questa barra la barra di sicurezza che adesso è presente questo Tried Asher che blocca il Dianauti all'abitacolo è molto molto realistica come cosa ok poi abbiamo questi che sono due attachment point che vanno montati sono fatti da due o tre pezzi se non sbaglio no forse erano questi qua no erano questo e questo qua centrale beh comunque viene usato per mettere i cannoni sulle spalle poi abbiamo il D-Maxiano questi sono uno e due e il Crash Calibur 2 sono come spade sono veramente belle belle devastanti hanno anche di particolari fatti veramente molto bene ok e poi abbiamo alla fine questi altri due attachment point che vengono usati magari per mettere le spade a riposo tra virgolette allora questi attachment point si possono usare qua qui o anche qua dietro ma specialmente se vengono usati qua dietro li metto dopo adesso poi scusatemi cosa pensi bizzarri non c'entra veramente niente ma se qualcuno per esempio si vorresse divertire mettendoci dentro anche un po' di un po' di qualcosa dei guardaroid gli può mettere queste ali qua dietro del bug head che entrano nel jetpack di dietro una e una due per farci questa versione quasi alata del triedasser penso che non ha veramente senso se qualcuno volesse sappia che lo può fare ok facciamo le persone serie via torniamo a noi allora proviamo per esempio a mettere questi attachment point qua alle gambe vanno messi sulla schiena però possono anche essere usati in questa maniera qua uno e due e così facendo se uno vuole può mettere il D-Max piano qua da una parte e dall'altra possiamo mettere il nostro spadone così ovviamente mettere anche il D-2 D-Max piano eccetera eccetera questa è una modalità di più usare gli attachment point poi un'altra modalità che è molto semplice prendiamo questi qua che sono più semplici li mettiamo qua sulle spalle ma questi sono fatti apposta per le spalle e qui ci possiamo mettere ancora il nostro cannone l'altro di Max Cannon devo dire che se devo scegliere tra qua e qua preferisco qua e poi qua ci mettiamo l'altra Krash Calibar 2 qua così sappiate che questa possibilità c'è però ok di solito non vengono messe qua questi questi attachment point e li lasciamo questi qua sulle gambe li togliamo e li andiamo a mettere qua dietro su questi due punti qua uno qua così ok ok poi qua ovviamente può impugnare qualsiasi cosa che sia il di Max Cannon ma se si può impugnare il di Max che hanno va tolto questo pezzo qua che se no va a cozzare contro quell'armatura ok così da una parte e dall'altra possiamo farmi il pugnare tranquillamente la nostra spada anche se preferisco fare avere le spade nelle due mani e i cannoni sulle spalle ok poi prendiamo il B-Max Cannon lo mettiamo qua questi attachment point sono duri ma nessun problema lo tiriamo giù e così abbiamo il nostro shoulder Cannon vera lì si fa prendere qualche bella posa un po' dinamica ed ecco qua il nostro trydash in tutto il suo splendore veramente veramente un bel bel meca se vogliamo fagli prendere una bella posa ancora più tosta comunque consiglio di mettere i due cannoni qua sulle spalle qua così e le due spade in mano il che viene ancora più tosto direi ecco se non vogliamo fargli per forza impugnare le spade e però mettere in esposizione con le spade in modalità tra virgolette riposo non si fa altro che togliere e mettere i due spade e metterle qua qua sulle spalle qua sulle spalle attachment point se vogliamo ci possiamo mettere anche sul nostro auto altro altro ghia un altro ghia n'auto qua sulla spalla qua così in veramente modalità tipo riposo proprio ok è stata una recensione un po' così alla buona comunque perdonatemi veramente ho avuto ben poco tempo e anzi questo mi sto dimenticando scusatemi dentro troverete anche questi begli stackers adesivi con varie numerazioni da 0 0 a 0 9 2 che partono da 0 a 0 9 0 0 9 0 0 0 9 per ricarare un'atmosfera di arma di produzione di massa perché così potete attaccarli ne avete due dello stesso numero dove volete c'è anche la possibilità vedo di attaccarlo qua sulle spalle qua di là vedo che qua e qua questo vuoto qua delle spalle è fatto apposta per attaccare questi stacker ok boh questa la recensione di oggi finisce qua comunque ripeto è veramente una bella figura devastante che consiglio a tutti gli amici di on out e poi ci vediamo alle prossime recensioni ciao ciao